Urla, grida, parole grosse che escono dalle finestre di un appartamento in corso a Palladio a Vicenza che fanno temere il peggio. Sono purtroppo ancora forti gli ecchi delle tragedie che solo poche settimane fa hanno visto la morte di due giovani donne. Una lite tra due fidanzati conviventi sui 25 anni. Qualcuno avvisa la polizia intanto all'apice della lite. Lei sale sul tetto del palazzo e si siede con le gambe nel vuoto. Sono momenti concitati di tensione ma all'arrivo della volante il pericolo è rientrato. Fortunatamente il fidanzato è riuscito a convincere la ragazza a rientrare. La questura ora sta valutando se denunciare alla giovane per procurato allarme.